L'80% delle strutture ricettive in Italia sono single properties a conduzione familiare. All'interno si innescano meccanismi di gestione non sempre precisi e purtroppo è spesso assenti di metodo e sistemi che potrebbero risolvere tantissimi problemi, come quello dell'inefficacia, delle strategie e della macanza di tempo e quel famosissimo spreco di energie. Daniele fa parte di una famiglia con oltre 200 anni di tradizione alberghiera. Ha seguito un master in hospitality management e poi ha avuto esperienze in diversi alberghi per poi apprendere tutte le tecniche e le innovazioni e portarle alla sua assienda. Quindi ha avuto il modo di vivere in prima persona tutte quelle che sono le dinamiche relazionali e quelle organizzative in tutto quello che è il mercato dell'hotellerie. Oggi viene qui a portarci tutta la sua conoscenza presa e a spiegarci un po' come funzionano tutte queste tecniche e come prendere quelle che sono le difficoltà, trasformarle e renderle in opportunità. Ci illustrerà i sistemi, le dinamiche del rilancio possibili per tutte le strutture alberghiere a gestione familiare in Italia. Ecco a noi Daniele Accarino. Ciao Daniele, grazie, buongiorno. Buongiorno Daniele, come stai? Tutto bene, spero lo stesso per te. Sì, 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 sono felicissima di portare questo tema così caldo, così innovativo e così completo perché come abbiamo detto prima l'80% sono single properties a condizione familiare nel settore dell'hotellerie qui in Italia ed è non solo opportuno ma credo proprio necessario e indispensabile portare questi temi e portare soluzioni concrete. Ti vorrei fare una serie di domande che partono da quello che sono i problemi che hanno le strutture per poi dopo fare una sorta di illustrazione ben precisa di come trovare delle soluzioni e risolvere questi problemi attraverso ovviamente di tutti i processi che tu già hai collaudato. Quindi comincio subito con le mie domande. Se per te va bene, cosa ne facci? Certo, certo, grazie. Tipo per esempio quella che io vedo più precisa e costante come problematica presente è che nella gestione delle single properties gli aspetti che risultano meno efficaci sono sempre lì all'ordine del giorno e quali sono questi aspetti? Sì, allora riprendendo la considerazione del fatto che l'80% degli alberghi sono a gestione familiare diciamo rispecchia anche un po' quello che è il tessuto imprenditoriale italiano al di là del settore dell'ospitalità in cui appunto la connotazione familiare è presente forse anche per il 90% considerando tutto il tessuto imprenditoriale. Diciamo la lista di quelle che possono essere le aree di opportunità e quindi di inefficienza degli alberghi a gestione familiare può essere lunga. Ovviamente è da premettere che non vanno considerati come inefficienze, non è detto che siano presenti tutti in tutti gli alberghi, ovviamente dove più, dove meno. Uno degli aspetti, io partirei dall'aspetto dell'organizzazione in generale, dall'aspetto organizzativo, perché spesso la dimensione ridotta delle imprese e degli alberghi a gestione familiare, che ovviamente di per sé non è un disvalore, non è un male, porta però i componenti della famiglia a essere coinvolti operativamente spesso in un modo disorganizzato in cui tutti fanno un po' tutto, senza quindi una definizione di ruoli, di funzione e di responsabilità che poi vengano ad essere strutturati tra di loro. Questo è anche legato ad un tasso di managerialità che spesso è molto modesto e che deriva da quello che è un'impostazione mentale degli albergatori che spesso è un po' datata ed è legato anche al concetto, alla concezione per la quale il lavoro in albergo si identifica con l'operatività, quindi con l'operatività definirei anche fisica, nel senso che viene considerato comunque lavoro come appunto far parte delle operation. Non è sempre così, o meglio, si può conciliare l'aspetto operativo di coinvolgimento diretto nell'attività aziendale, quale può essere per esempio l'immancabile sorriso accogliente del padrone di casa che accoglie un ospite, ma se questo viene ad essere conciliato poi anche con la parte legata all'aspetto gestionale e strategico, c'è bisogno comunque di qualcuno che pensi, fammi passare questo termine, all'interno dell'albergo. Per cui se l'imprenditore è capace di conciliare i due aspetti bene, altrimenti dovrebbe essere necessario che ci sia qualcuno nel BEC che riesca a farlo. Ti racconto un aneddoto personale, in cui dopo aver fatto un'esperienza, come hai detto, dopo il mio percorso di studi in ospedale di management, quindi dopo aver fatto l'esperienza negli alberghi, sono tornato nell'albergo di famiglia, occupandomi della parte di commerciale e marketing. Dopo un po' di tempo, diciamo, mio nonno si è accorto, che è stato operativo fino alla fine, si è accorto che c'era una montazione un po' diversa rispetto al solito, e chiese ad una nostra collaboratrice, la Reception, come mai ci fosse quel movimento. E la nostra collaboratrice rispose evidentemente anche il risultato di quello che sono le azioni che Daniele stava facendo. E il meno nonno rispose Daniele, ma Daniele sta tutto il giorno dietro a un computer. Questo è un esempio, un anedito, anche banale, per dimostrare come effettivamente per determinate generazioni, non so quanto, solo quanto generazioni passate, il fatto di l'aspetto manageriale viene invece considerato o meno rispetto a quello un po' operativo, quando invece ovviamente è determinante, soprattutto nella definizione di una strategia della conduzione aziendale. Ovviamente poi il tasso di marginalità modesto è legato anche alla mancanza di competenze, che è un altro tasso dolente, diciamo, degli alberghi a gestione familiare, perché spesso i componenti familiari non sono formati o se sono formati, sono formati sull'esperienza, dalla gavetta, così come ci siamo detti in precedenza. Questo però comporta poi che l'albergatore eventualmente può essere coinvolto eccessivamente nell'operatività quotidiana e senza avere quel tipo di competenze poi che sono invece necessarie per un imprenditore a tutto tondo. Per esempio, mi viene da pensare alla confidenza che un imprenditore può avere con i numeri, con il controllo di gestione, con la lettura anche di un bilancio. Infatti non è raro il caso in cui magari l'imprenditore si trova a fine esercizio, a fine anno, a confrontarsi con il commercialista e a non riscontrare la congruità tra quello che è lo sforzo profuso e le energie profuse quotidianamente in albergo rispetto a quelli che invece sono i risultati economici e finanziari. Dove invece necessiterebbe una competenza di tipo giurpinale e manageriale che lo portasse a controllare e a condurre l'albergo on time. Un altro aspetto legato alla competenza e poi legato anche alle competenze dei collaboratori che spesso sono portati in azienda tramite un recruiting non professionale. perché risponde spesso a logico di tipo parentale, amicale per cui si assume l'amico di, il parente di e però questo nulla togliendo che possono essere anche soggetti qualificati ma per lo più non lo sono. E questo se può essere un risparmio dal punto di vista del processo di recruiting diventa un costo poi nel momento in cui queste risorse che evidentemente o probabilmente non sono qualificate devono essere affiancate devono essere, bisogna impiegare investire del tempo e delle energie per la loro formazione e per allinearli a quelli che sono gli standard dello staff già presenti in azienda. Tutto questo ovviamente rappresenta un costo in termini di tempo, di energie e anche economico a lungo andare. Un altro aspetto su cui vuole l'attenzione è la mancata programmazione. Come già detto in precedenza l'imprenditore spesso è coinvolto eccessivamente nell'operatività, nel day by day il che fa sì che poi non abbia la lucidità mentale, la tranquillità e anche l'organizzazione mentale per poter definire degli obiettivi di lungo termine. Ci sono poi altri aspetti che definire l'inefficienza ovviamente non è corretto ma che io inserisco perché poi diventano delle inefficienze aziendali e partiamo dalla chiusura mentale che spesso possiamo trovare nei confronti negli imprenditori negli albergatori ossia una scassa attitudine all'aggiornamento una presunzione dell'avere il prodotto migliore una scassa attitudine alla curiosità e alla scoperta anche di idee che possono venire da altri colleghi da altri settori che significa la possibilità di aprirsi ad un'ispirazione e ad una produzione di azioni e di idee che può essere di miglioramento rispetto a quelle da cui si è tratto ispirazione e di adattamento quindi rispetto al proprio contesto poi legato anche poi alla necessità di sfuggire al si è fatto sempre così perché seppur l'imprenditore nel suo albergo ha ottenuto risultati lungo la strada ma comunque non è detto che la strada che è stata percorsa fino a quel momento sia la stessa strada che vada percorsa per il futuro anche perché ci troviamo di fronte ad un contesto che è in continuo cambiamento e molto veloce come abbiamo visto anche purtroppo negli ultimi due anni o come stiamo vivendo anche in questi giorni il legato un po' quindi a questo aspetto di chiusura mentale di presunzione è anche legato alla vanità dell'imprenditore legato al suo prodotto all'idea del suo albergo a cui è ovviamente legato da una vita o per averlo creato o per esserci cresciuto ti faccio due esempi abbastanza semplici e sono legati uno al revenue per esempio quindi al revenue management nella strategia di revenue può succedere per un albergatore che invece è abituato ancora perché non esistono ancora dei albergatori legati al vecchio listino tariffario che possano alcuni periodi tendenzialmente di bassa stagione essere venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello storicamente venduto e c'è grande difficoltà da parte dell'albergatore di accettare eventualmente un prezzo inferiore rispetto a quello a cui lui è sempre venduto perché per lui l'albergo non può rappresentare se non quel valore minimo lo stesso troviamo anche in caso di per esempio in caso di compravendita di alberghi in cui possiamo verificare come di frequente le aspettative che un albergatore può avere nella vendita di un albergo sono molto più alte rispetto a quello che poi una due diligence o il mercato gli vada a riconoscere questo perché appunto ha un'idea del suo albergo perché gli è legato da un valore emotivo e da una vanità che comunque il mercato non ovviamente non gli riconosce un altro aspetto che parlando di alberghi a gestione familiare non è piacevole inserire all'interno delle inefficienze è però la famiglia stessa la famiglia che ovviamente è uno scrigno pieno di valori e di potenzialità ma non ci dobbiamo nascondere il fatto che comunque anche la famiglia ha degli aspetti che se non gestiti correttamente possono portare delle complicazioni e quindi delle inefficienze anche di tipo gestionale e operativo per esempio partiamo dai potenziali conflitti tra i membri della famiglia che possono aver ricaduto e poi sull'organizzazione e sull'operatività per cui c'è una necessità di creare un collubio tra i valori aziendali personali e familiari con una particolare attenzione a quello che è la comunicazione interna che segue due binari il binario interfamiliare per cui nella comunicazione tra fratelli figli e genitori nipoti e zii che ovviamente abbraccia anche una componente emotiva e valoriale di tipo familiare sia un binario poi legato invece alla direzione famiglia collaboratori perché c'è spesso un caso di organizzazioni o meglio contesti poco organizzati questa comunicazione può far sì che i collaboratori possano ricevere direttive confuse o più direttive sullo stesso tema mettendo quindi i collaboratori in grossa difficoltà e di conseguenza creando delle inefficienze nei processi gestionali un ultimo diciamo un ultimo elemento che prendo in considerazione è quello del passaggio generazionale che ovviamente è un elemento che è un aspetto che non viene preso in considerazione dal hotel di Catena perché non gli è proprio mentre è un elemento molto delicato per quel che riguarda gli hotel a carattere familiare perché ne va della continuazione dell'esistenza dell'assetto albergo sul mercato giustito dalla stessa azienda per cui va gestito con molta delicatezza e con molta sensibilità e da un punto di vista ovviamente professionale sia la coesistenza delle diverse generazioni nella gestione dell'albergo sia poi quando la generazione precedente ha intenzione di lasciare la mano il passaggio generazionale vero e proprio è impressionante perché tutto quello che stai dicendo io lo noto quando con HSL Hospitality andiamo a vedere piano piano le dinamiche per capire da dove poter iniziare a fare una riprogettazione un rilancio e sono stranamente le stesse dinamiche anche se non sono scritte da nessuna parte non c'è un protocollo che dice questi sono gli aspetti inefficaci di una gestione dell'80% delle strutture alberghieri in Italia ma sono le stesse ci sono interi territori come sono tornata della Val di Passa adesso nel Trentino interi territori che ci sono soltanto single properties e dove all'interno ci sono solo le famiglie anche due è un caso eclatante perché sono 200 anni di tradizione altre sono un pochino più recenti di una novantina di anni però c'è ancora il nonno che ha 90 anni che gira per l'albergo e vuole fare vuole essere presente in tutte le dinamiche e purtroppo come dicevi prima non hanno questo passaggio di mindset dal ok questo è quello che succede ma adesso Daniele sta risolvendo i problemi col computer come mai è fortissimo è molto molto impattante sapere come è cambiato tutto ma non adesso sono anni che mi sembra che per loro si fosse fermato il tempo negli anni 80 si è evoluto il mondo in 40 anni e adesso stanno dicendo ok è vero sta succedendo qualcosa di diverso sì ovviamente è così nel senso che gli aspetti sono sempre gli stessi e la mentalità soprattutto di imprenditore è un po' datati è quella nel senso fondamentalmente magari sono più soddisfatti se vedono le nuove generazioni portare le valigie degli ospiti dalla reception alla camera piuttosto vederli magari una giornata intera si vede una scrivania a gestire c'è da dire a gestire aspetti che probabilmente loro non riescono a comprendere del motivo per cui forse non riescono a comprendere nemmeno il valore poi di un lavoro di tipo manageriale e non solamente legato all'operatività che comunque è corretto e comunque giusto senza togliere niente a questo tipo di attività stiamo sempre parlando di accoglienza io quello che vedo dall'esterno è che in questo in questa accoglienza non si sono mai collati ai sistemi non si è mai fatta una strategia anche se nonostante tutto c'è perché se no le strutture fossero chiuse già da tanto tempo diciamo che anche il mondo dell'hospitality allora come abbiamo detto questo tipo di dinamiche che sono probabilmente proprie di tutti i settori quindi tutte le aziende a gestione familiare anche non solo quello dell'ospitalità quello dell'ospitalità probabilmente è un settore particolarmente conservatore e a questo poi ci arriviamo probabilmente dopo per approfondire questo tipo di tematica infatti perché quello che ti volevo chiedere appunto adesso è quali sono i punti di forza perché nonostante tutte queste cose sono 20 minuti stiamo parlando degli aspetti che sono poco efficaci ma nonostante quegli aspetti poco efficaci sono 80% delle strutture solo più a Rimini ci sono 1500 alberghi quindi come hanno sopravvisto quali sono i punti di forza le fondamenti che regolano queste strutture a gestione familiare è evidente che la famiglia così come prima prima ho considerato la famiglia negli aspetti tra virgolette negativi ma è evidente che la famiglia nasconde al proprio interno una tale forza valoriale per il proprio albergo che è dimostrato dal fatto che è vero che magari possono non essere gestiti nel migliore dei modi ma la sopravvivenza e l'esistenza di così tante realtà alberghiere a gestione familiare conferma il fatto che la famiglia per un albergo è un apporto un contributo notevole e fondamentale che spesso va anche oltre a quelle che possono essere capacità o risorse di tipo economico finanziario sicuramente quindi la famiglia è una realtà quindi con radici solite nel mercato a cui fa riferimento e anche nella destinazione e che ha una storicità che comunque di solito favorisce anche quelli che sono rapporti di tipo istituzionale con gli istituti di credito con i fornitori ma anche semplicemente dal lato dell'offerta quindi nei confronti per esempio della clientela sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista della conoscenza profonda della destinazione e quindi della scoperta di tutti i segreti che la destinazione può nascondere un altro elemento fondamentale è quello del rapporto di fiducia e di familiarità che la famiglia riesce a stabilire con con le risorse umane e quindi con i collaboratori andando a creare una sorta andando a creare un commitment quindi un engagement un allineamento ai valori aziendali che possono sicuramente far parte anche di caratteristiche personali soggettive di ciascun collaboratore ma che invece ma su quale invece si deve si deve lavorare proprio nel senso nel compondere comportamenti di impegno di motivazione di senso del dovere di appartenenza che sono quindi un valore aggiunto che gli alberi di gestione familiare possono avere nei confronti rispetto per esempio ad un hotel di catena in cui può esserci un commitment che può esserci ma che spesso è più legato al brand dell'hotel di catena che non ai rapporti umani di per sé un altro un altro da inserire poi nelle efficienze e negli aspetti positivi è anche la flessibilità che una flessibilità se prima ho parlato di dimensioni ridotte spesso che spesso ritroviamo perché se non ben gestite e organizzate possono essere un problema dall'altro dall'altro lato se invece organizzate possono portare ad una capacità di adattamento ai cambiamenti che sono molto più repentini molto più veloci per cui da questo punto di vista una struttura di minor dimensione ha una flessibilità maggiore e questo e questo poi è stato anche il probabilmente uno dei segreti che ha concesso in questi due anni agli alberghi a gestione familiare di poter rispondere a quelle che sono state le difficoltà particolari e del tutto nuove che abbiamo riscontrato ma che attraverso le quali comunque sono riuscite a passare un ultimo aspetto è poi quello legato al racconto nel senso qui iniziamo ad inserire un aspetto di marketing che è quindi la possibilità di raccontarsi la possibilità di raccontare la vita della famiglia delle persone dei componenti della famiglia del momento dei componenti della famiglia del passato della vita delle persone del passato e quindi l'evoluzione dell'albergo attraverso la storia della famiglia che è un che va poi a informisti all'interno del brand del posizionamento definito ma che è un'opportunità di un'occasione che gli alberghi di catena non possono avere a meno che non siano a meno che l'albergo non sia non insista su uno stabile storico per cui a quel punto va narrata la storia dello stabile ma sicuramente la famiglia è impressionante perché a me mi succede spesso di innamorarmi dei luoghi per lo storytelling quando arrivi lì non solo nell'hospitality però anche nei ristoranti quando arrivi ti raccontano il perché ci sono certi dettagli l'arredo la cucina la mia nonna e queste cose sono affascinanti per mercati esteri che sono assenti di cultura come quello statunidense o quello australiano vengono e chiedono proprio che ci sia una struttura che abbia qualcosa da raccontare quindi la sfida più grande è quella di integrare queste nuove forme queste nuove tecniche e vedere una strategia pivotarla un pochino variarla mantenendo tutta questa essenza quindi è veramente una una sfida perché è come integrare una sorta di sistema senza togliere l'autenticità e questa cosa è super super importante adesso oggi come oggi per far sì che questo settore fiorisca come sicuramente accadrà in poco tempo però io ti volevo chiedere anche quali sono le caratteristiche chiavi per il rilancio appunto e per il lancio delle imprese con una gestione familiare adesso nel 2022 sì diciamo ovviamente riprendiamo dei concetti di cui abbiamo già parlato che probabilmente che torneranno spesso nella nostra chiacchierata perché sono puntano su quelle aree inefficienze aree di miglioramento di cui abbiamo parlato prima e la prima che mi preme affrontare è quello diciamo dell'organigramma organigramma ho voluto utilizzare questo termine perché che può sembrare anche eccessivo come definizione per dimensioni per strutture che spesso hanno dimensioni anche medio piccole ma è un concetto utile per sintetizzare una definizione di ruoli funzioni e responsabilità che devono essere strutturate in modo integrato e che spesso poi all'interno della famiglia siccome c'è necessità comunque non solo delle attribuzioni di ruoli e funzioni e responsabilità ma anche comunque che ci sia dipende poi dalle dimensioni un aspetto diciamo in qualche modo gerarchico che anche questa sorta di gerarchia venga comunque gestita in modo sensibile perché può rappresentare comunque un nervo scoperto che poi a lungo andare può rappresentare un problema per conflittuale nella famiglia e quindi poi anche di differenza nei processi organizzativi e di servizio quindi appunto il processo organizzativo è quello è l'aspetto successivo per cui nel momento in cui viene messo a posto l'aspetto organizzativo interno interno alla famiglia intendo si può poi andare a passare alla definizione dei processi organizzativi che vanno a prendere in considerazione anche i collaboratori ciò contoglie che i collaboratori possono rientrare anche nell'aspetto organizzativo di tipo manageriale nel senso che non è scritto da nessuna parte che ruoli di responsabilità devono essere ricoperti esclusivamente dalla famiglia anzi questo spesso è un tasso dolente per gli imprenditori a stampo familiare che con difficoltà vedono eventualmente l'inserimento di risorse esterne alla famiglia in ruoli apicali perché con difficoltà accettano che qualcuno possa comandare a casa loro quindi una volta sistemato anche la parte del processo organizzativo è definita quindi si procede poi a quello che è una definizione dell'identità dell'albergo che è sicuramente una delle leve di rilancio maggiore legato quindi alla parte di marketing strategico diciamo che questo è un aspetto che storicamente non è stato necessario e probabilmente è il motivo per cui c'è scarsissima formazione in merito storicamente non è stato necessario perché comunque l'Italia in generale come destinazione è sempre stata una destinazione meta di turisti dall'Europa e dagli altri continenti dagli anni 50 60 in poi per cui agli albergatori non restava che aprire le porte degli hotel e aspettare aspettare i clienti e gli ospiti che comunque sarebbero arrivati e questo probabilmente è anche il motivo per cui in molte aree troviamo anche una cultura dell'ospitalità che non è sempre così all'altezza diciamo del brand Italia come destinazione non c'era il problema però è che molti imprenditori sono rimasti a quegli anni e questo non è possibile perché ormai è banale dirlo ma il mondo è cambiato con la globalizzazione con il turismo che ormai è diventato una moltitudine di turismi con dei competitor che ormai non sono l'albergo a fianco o l'albergo a 10 km ma sono le destinazioni che si possono ritrovare per cui si sono aperti i confini nazionali e il problema è che molti sono rimasti a quegli anni per cui c'è necessità di avere di orientarsi in un modo diverso rispetto a quello che è il marketing marketing di tipo strategico per cui diciamo prima cosa non è il marketing non è comunicazione non è il social la gestione social non è la pubblicità questi sono fanno parte del marketing ma sono strumenti di marketing nel caso specifico sono strumenti del marketing operativo il marketing strategico invece si lega all'idea del brand del posizionamento il brand cos'è il brand il brand nasce dalla necessità dei allevatori di distinguere due mucche per cui così come raccontato da Marco Deveglia nel suo libro Zero Concorrenti per distinguere le due mucche non c'era l'unica possibilità a suo tempo ovviamente ora le tecniche sono diverse era quello di marchiarle a fuoco perché un ottimo esporto non le avrebbe distinte e quindi di fondo rappresentava un elemento di differenziazione che inserisce e introduce il discorso di posizionamento che quindi è nato negli anni settanta in America che è inteso quindi come un'identità come la necessità di inserirsi all'interno della della mente dei potenziali dei potenziali clienti passando dalla teoria alla pratica ti faccio un esempio banale banale non perché sia banale di per sé ma perché è molto inflazionato perché l'hotel è preso in considerazione un hotel che fa il marketing strategico in modo ottimale se io in Italia parlo di un segmento l'arceli e parlo di una destinazione per famiglie il primo albergo probabilmente chi verrà in mente è quello del cavallino bianco di Ortisei perché il cavallino bianco è stato capace negli anni di essere un punto di riferimento per questo tipo per questo di market e quindi il posizionamento è uno degli strumenti più potenti per creare una vera differenziazione sul mercato e per evitare poi di essere per evitare che poi si possa essere un albergo che venda gli stessi servizi di un altro senza una distinzione mettendo quindi l'utente che è alla ricerca di un albergo metterlo a parità di condizioni di scegliere solamente in base al prezzo e quindi poi entrare nella battaglia dei prezzi perché per l'utente è indifferente un albergo piuttosto che l'altro e quindi l'unica leva potrà essere il prezzo quindi l'individuazione di un'identità precisa che viene appunto esplicata nel questo momento ovviamente deve essere però coerente con la destinazione in cui l'albergo si trova per cui è necessario anche l'analisi della destinazione a priori perché poi possiamo trovarci con l'avere un prodotto migliore un brand bellissimo per un target che generalmente può anche esistere ma che non esiste nella destinazione che tra l'altro a volte è un brand per cui potremmo avere un prodotto efficiente ben organizzato perfetto ma che non è vendibile in caso di lancio o di rilancio di un albergo ovviamente poi è necessario anche fare i conti della serva per cui specchiarsi poi confrontarsi con quello che è lo studio di fattibilità c'è da dire da fare una precisione il brand quando parliamo di brand di posizionamento non significa che stiamo parlando di un segmento di lusso o a forza il cavallino bianco lo è è comunque un albergo per famiglie di lutto ma non è detto che debba essere così possono essere hotel con una propria identità anche dei tre stelle dei due stelle quindi senza essere un tipo di difficoltà l'importante è andare a individuare quelle che sono caratteristiche peculiari e quelle che sono l'essenza dell'esistenza di quell'albergo e comunicare in buon modo andando poi anche a individuare quello che deve essere un target specifico per cui nel momento in cui adottiamo un'identità un posizionamento dobbiamo adottare anche un target e quindi comunicare solo con quel target non possiamo essere un albergo che può ospitare qualsiasi tipo di target sia coppie sia famiglie sia cofette sia commercialization per cui è necessaria una focalizzazione anche eventualmente andando a rinunciare a qualcosa per esempio arrivando all'estremo del cavallino bianco di Ortisei il quale è talmente focalizzato sul target famiglia che addirittura non accoglie coppie senza famiglia questo lo avevo visto e contemporaneamente che vedevo questo posizionamento di alcune strutture e quindi la esclusività di tantissimi altri target non in target per loro me ne rendevo conto di quanto li semplificava la comunicazione sia interna nel day by day nell'accoglienza che nella comunicazione prima della prenotazione in fase di marketing e anche nel follow up dopo il loro soggiorno dei loro ospiti e questo messaggio non arriva ancora non arriva a tantissimi a tantissimi albergatori non arriva non arriva e sai perché credo che lo affronteremo anche dopo non arriva perché ci vuole coraggio nel senso l'idea per un albergatore di rivolgersi ad un target specifico e quindi tendenzialmente di non rivolgersi più a tutta una marea di clientela di potenziale clientela e utenza fa sì che nella sua mente rinunci a dei ricavi che sono però lì sul mercato ma come dicevi giustamente tu questo il rivolgersi ad un target specifico oltre ad essere corretto dal punto di vista di marketing strategico semplifica tutta una serie di operazioni proprio partendo dalla definizione del marketing e quindi anche dall'implementazione del marketing da strategico operativo ma anche semplicemente poi anche nelle operations quindi nel coinvolgimento anche dello staff che sa di dover lavorare con un target specifico andando a specializzare anche lo stesso staff su quel target specifico quindi risolve anche una serie di problemi come giustamente dicevi tu gli effetti che poi il marketing strategico ha sono quindi una differenziazione quindi una distinzione dell'hotel dagli altri una distinzione anche se vogliamo parlare anche di un aspetto economico finanziario del dal suo semplice asset immobiliare un albergo che non ha una gestione particolarmente felice è un albergo che per lo più è valutato per quel che riguarda finanziariamente il suo asset immobiliare sappiamo benissimo che ormai i criteri di valutazione degli alberghi non attengono più alla redditività che non al criterio patrimoniale tuttavia il fatto di poter con il posizionamento e con un branding andare a valorizzare ancora di più quindi crea un valore fa sì che poi al ovviamente sottostante asset immobiliare il valore dell'albergo sia dovuto invece al modo in cui questo viene gestito e al brand che rappresenta all'interno del mercato di riferimento anche per cui va ad aumentare la percezione da parte dell'utenza in questo modo ti consente lato revenue management di poter anche aumentare i prezzi all'aumentare della percezione e quindi fa venire meno anche a quella che è la guerra dei prezzi che purtroppo oggi assistiamo frequentemente in tante in tante destinazioni poi rende anche più soddisfatti i clienti perché essere ospitati da un brand da un albergo che ha una sua identità e un suo posizionamento particolare innesca anche nell'utenza un senso di appartenenza a quello che il brand trasmette quindi una sorta di comunità che ha degli effetti dal punto di vista di marketing e quindi di vendita molto molto più grande ultimo ma non per ultimo favorisce quindi anche la disintermediazione perché nel momento in cui sei un brand forte hai un posizionamento forte spesso il client ti riconosce comunica direttamente con te e quindi anche poi la vendita avviene direttamente con l'hotel e non più attraverso i canali di disintermediazione quindi diciamo gli aspetti principali per un lancio di un albergo nascono dal marketing strategico per primo per cui tramite analisi della destinazione la definizione di un brand e di un elemento differenziante che possono nascere per esempio anche semplicemente dal naming e in questo caso il cavalino bianco che come ho detto è sempre inflazionato ma ritorna ad essere un esempio eccellente perché anche il nome cavalino bianco evoca il cavalino che troviamo nelle camere dei bambini e quindi evoca da subito il carattere familiare dell'ospitalità che troverai all'interno di un albergo marketing marketing strategico che poi deve essere tradotto implementato nel marketing operativo quindi tramite i diversi strumenti che sono il copy che sono il sito che sono il blog che possono essere l'email marketing che possono essere i social e che poi fanno sì tutti insieme con un messaggio sempre coerente che il revenue management che poi è la conclusione diciamo dal punto di vista dell'offerta del vada a ottimizzare i ricavi grazie alla creazione di valore che abbiamo avuto nei processi in precedenza impressionante come la la distribution cioè la distribuzione di quello che è in questo caso il il prodotto hotel abbia una enfasi molto più grande tantissime altre più opportunità se prima si fa tutto tutto il resto appunto la strategia questo messaggio divulghiamolo a più quantità di imprenditori nell'hotelleria possibili perché potrebbe fare veramente il salto di qualità e non non è che stiamo scoprendo l'acqua calda semplicemente sono sistemi appunto dopo un passe di marketing strategico quando fai tutte queste cose fai le azioni non è detto che tutte le cose vadano sempre come noi pensiamo perché le varianti sono tantissime lo abbiamo visto in questi ultimi due anni e lo vedremo ancora per i prossimi anni quindi quali sono le azioni che possono essere replicabili secondo te quelle azioni chiavi che possono prendersi da questo lavoro di marketing e poi replicarle per farsi ovviamente che i risultati aumentino di volta in volta e più che altro avere la piena consapevolezza che ci vuole pazienza quali sono Daniele in questo caso? Sì sono diciamo è una questione di metodo tendenzialmente nel senso che come hai detto tu spesso le cose non vanno come abbiamo pensato ma non vanno come abbiamo pensato le cose sia esterne sia interne mi spiego meglio tu facevi riferimento ovviamente al contesto in cui stiamo vivendo in questi due anni che è un elemento esterno ci sono poi può essere anche azioni interne che non vanno come abbiamo pensato per questo dico che è una questione di metodo perché bisogna partire da una verifica da un'analisi che può essere sulla destinazione l'analisi della destinazione del compito dei riset dei servizi presenti in albergo dei servizi presenti negli altri alberghi di servizi eventualmente presenti in settori diversi da quelli dell'ospitalità ma che possono essere in qualche modo tradotti adottati all'interno del mondo alberghiero da qui ne può derivare quindi un'ispirazione un'idea che applichiamo tramite un'azione questa azione poi necessariamente deve essere misurata non possiamo permetterci di lasciare un qualsiasi tipo di azione senza conoscere quello che è il ritorno in termini di risultati economici e non che quell'azione porta perché il misurare ci consente di capire se quell'azione ha un effetto efficace o non è efficace ed eventualmente ci consente quindi di capire anche se c'è stato un errore in quell'azione e in questo caso prendo in considerazione quindi quando parlavamo diciamo delle cose non sempre vanno come pensiamo rispetto a qualcosa all'interno quindi spesso le azioni che noi facciamo non hanno i risultati che ci aspettiamo e in questo caso però se li abbiamo misurati possiamo correggerli quindi possiamo correggerli in corsa e quindi possiamo misurare verificare nuovamente se la correzione ha effetto e se l'azione nel suo insieme è efficace questo poi nel momento in cui abbiamo raddrizzato l'errore e abbiamo ottenuto quello che vogliamo abbiamo consapevolezza quindi della potenzialità e dell'efficacia di quell'azione abbiamo imparato che quello funziona e quindi da lì impostiamo un processo impostiamo una procedura questo fa sì quindi che sia sia replicabile sia corregibile in corsa perché comunque c'è da dire che spesso soprattutto nel marketing il marketing è fatto di tentativi non sempre la prima azione conduce all'effetto desiderato per cui è fatto di tentativi di correzioni più o meno grandi e che poi alla fine possono portare alla definizione dell'azione corretta e più efficace impressionante perché man mano che tu dicevi quali sono queste azioni chiavi io mi mi chiedevo quanto può essere non facile portare proprio all'interno del team del team di lavoro quindi in questo caso e spesso della famiglia una consapevolezza così grande di queste cose c'è proprio il protocollo dire la consapevolezza di quando abbiamo sbagliato l'accettazione dell'errore la impostazione del processo che magari per te vuol dire una cosa per me vuol dire un'altra e mi è venuto in mente ma come come si agisce nelle dinamiche di precaria comunicazione o comunque di comunicazione interna che affronta la gestione di una struttura considerando proprio quello che mi hai detto adesso e quello che succede nel famoso day by day sì allora diciamo il metodo che abbiamo visto prima è replicabile poi diciamo prima abbiamo parlato magari un po' più sul marketing venendo da un discorso di marketing ma è ovviamente replicabile va replicato in tutti in tutti i settori tra i quali anche per esempio quello della della comunicazione nello specifico della comunicazione interna comunicazione interna che dal punto di vista che in un albergo a gestione familiare è molto più delicata o meglio ha degli aspetti di complessità maggiori rispetto a quelli che possono essere di un albergo che non è gestito da una da una famiglia e che ritorna un po' ai due binari che ci siamo detti anche prima perché c'è la necessità di gestire quello che la comunicazione che avviene all'interno della famiglia e poi dalla famiglia verso i collaboratori per evitare che per far sì che quindi le direttive che arrivano agli stessi siano univoche e questo parte però sempre dalla definizione diciamo di un'organizzazione interna quindi di un organigramma una sorta di organigramma intendo sorta per evitare di associare l'organigramma ad una struttura particolarmente piccola come dimensioni e quindi poi di legare di legare questa 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 organizzazione all'operatività per cui la comunicazione interna è un aspetto nelle famiglie molto delicato perché va a toccare delle sensibilità dei valori che sono ulteriori rispetto a quelli che possiamo trovare all'interno di un hotel gestito da non gestito da una famiglia sì è quello che è quello che mi ero un po' immaginata vedendo non solo immaginando però vedendo anche analizzando quali erano le situazioni ho detto la comunicazione familiare è totalmente un aspetto da vedere quanto tempo ti richiede no perché a volte per una questione anche di drammi o comunque parole dette in momenti non opportuni crea un disperdio di energia e di tempo non indifferente e io vedevo la differenza tra catene alberghiere e anche estere qui in Italia ci sono poche è solo il 6% delle strutture alberghiere che formano parte di catene però quando vai all'estero vedi come interi sistemi di mille camere resort sia tutto molto preciso sia tutto molto con una tempestività molto appunto perfetta e va tutto liscio e tu dici come è possibile che questi dinosauri riescano ad avere sistemi così precisi e nelle gestioni familiari che la cosa più bella è proprio quella dell'accoglienza dell'essenza per una parola detta in un momento sbagliato o per una cosa non capita nel momento giusto viene una sorta di disgregazione del sistema quali sono le principali differenze appunto della gestione di queste comunicazioni delle single properties alle grande catene dell'hotelleria hai ragione nel senso che spesso ragionando direttamente anche se ora sono uscito dalla gestione dell'albergio di famiglia però ragionando sul tempo impiegato a risolvere problemi di carattere relazionale rispetto a eventualmente concentrarsi sull'aspetto più prettamente lavorativo e professionale c'è da riflettere perché comunque però credo che sia anche fisiologico fisiologico sì però deve essere anche in qualche modo anticipato o comunque se è un problema che non si può risolvere bisogna capire qual è il migliore modo per gestirlo quello che dicevi tu legato a questi dinosauri che vengono gestiti in un modo magari più semplice rispetto a quello che può essere un alberghi di dimensioni minori ma da una famiglia è legata anche qui a quello che è un'impostazione organizzativa che spesso è molto ben definita tra l'altro c'è da dire che spesso negli hotel di catena l'impostazione organizzativa è data al management per cui non è mentre all'interno degli alberghi è data dalla famiglia per cui ci può essere il caso in cui un componente della famiglia non gradisca particolarmente quelle che possono essere la struttura organizzativa o se c'è anche gerarchica il che può comportare delle complicazioni comporta complicazioni perché inevitabilmente c'è un coinvolgimento emotivo che va oltre a quello che sono delle 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 semplici il coinvolgimento che può essere una relazione che può esserci tra due colleghi all'interno di un hotel di catena e che invece tra due familiari è diverso e che crea potenzialmente delle complicazioni perché va a prendere in considerazione poi anche valori personali e quindi è un equilibrio sottile e delicato che non sempre è presente e su cui appunto anzi forse spesso non si pone l'attenzione non si sa che è un elemento che comunque va gestito deve essere gestito deve essere anticipato probabilmente perché spesso vivendolo è difficile vederlo dall'esterno e quindi questo probabilmente è uno dei casi in cui appoggiarsi all'assistenza di un consulente esterno può essere può essere può avere un'efficacia migliore sì vedo la quando arrivi lì vedi cose che magari nella struttura appunto per il suo essere accogliente rimane anche un aspetto di ovattamento cioè rimane tutto ovattato tra i componenti del team non si vedono aspetti che potrebbero essere facilmente trasformati in positivo e potenziare ancora le proprie risorse arriva una persona fuori con una visione un pochino più globale del tutto e riesce a fare appunto degli analisi e portare delle soluzioni che sicuramente se seguite perché quello che io credo sempre è un conto è fare un'analisi un conto è fare un processo un altro conto è mettere in atto quindi qui la chiave è passare all'azione e arriviamo al momento delle soluzioni adesso perché ho detto ok va bene tutto quello che ci siamo detti è una panoramica importantissima e una consapevolezza ampia ampia del momento che stiamo vivendo adesso ma gli analisi cioè proprio l'analisi della soluzione quali aspetti di innovazione gestionale devono puntare adesso gli imprenditori su cui insomma puntiamo noi che sono quelli dell'hotellerie per poter rimanere al passo con i tempi in questo in questo mondo che si sta totalmente trasformando sì guarda ho voluto ho voluto prendere in considerazione degli aspetti che forse facciamo difficoltà a percepire come innovazione ma li prendo in considerazione perché ritornando a quanto abbiamo detto precedentemente a quanto sia un settore quello dell'ospitalità particolarmente conservatore per cui il primo che prendere in considerazione è quello della programmazione non è possibile gestire un albergo ma qualsiasi tipo di azienda senza una programmazione quindi il rischio che l'imprenditore venga coinvolto nel day by day come abbiamo detto prima c'è può in qualche modo anche essere utilizzato dal punto di vista strategico operativo ma non ci si può permettere che il lavoro dell'imprenditore resti quello la programmazione è necessaria perché poi perché è la sella polare che l'imprenditore per primo ha definito e che deve eseguire e che poi con il coinvolgimento degli altri della famiglia dei collaboratori viene perseguita così da tutti quanti programmazione necessaria perché anche in questi due anni anche in questi due anni ovviamente sono saltati è saltata la programmazione di tutti gli alberghi di tutte le aziende nel mondo ma è necessario poi che una volta superato il momento del primo scossone con condizioni ovviamente di mercato totalmente diversi una 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 direzione una direzione dove debba esserci e quindi è necessario a sua volta programmare quindi se i programmi sono stati o per elementi esterni operamenti interni disattesi va modificata e va ripianificata questa la programmazione un altro aspetto innovativo ritornando all'aspetto conservativo del settore è quello che abbiamo già affrontato in precedenza della formazione delle competenze sono delle sono degli aspetti su cui in questa chiacchierata siamo tornati spesso e che sotto magari diversi tipi di aspetti o di declinazione però è spesso carente nelle strutture di questo tipo per cui oggi possiamo dire che un albergo a gestione familiare che abbia al suo interno competenze eccellenti che derivino da un aggiornamento di una formazione eccellente è un albergo particolarmente innovativo innovativo che ti porta poi ad un altro aspetto che possiamo definire anche questo innovativo che è della sperimentazione una sperimentazione di qualsiasi tipo può essere di processo di marketing che deve essere misurato corretto modificato integrato e che è consigliabile soprattutto in albergi di dimensione cioè strutture anche di piccole dimensioni perché appunto hanno una capacità una flessibilità di testare di provare e di cambiare rispetto a quello che invece può essere un albergo di grandi dimensioni particolarmente strutturato ovviamente quando parliamo di sperimentazione consigliamo comunque sempre una sperimentazione di piccolo cabotaggio perché ovviamente un albergo a gestione familiare ha dei margini di errori minori rispetto a quello che può essere un albergo per esempio di Catena perché nel caso in cui l'investimento sia fallimentare l'albergo di Catena può assorbire questo fallimento che è anche economico finanziario a livello di gruppo mentre pesa sulle finanze di un albergo a gestione familiare nel caso in cui sia invece fatto da una famiglia in un albergo innovativo e anche il discorso legato alla formazione delle nuove leve per cui come dicevo in precedenza la coesistenza anche delle diverse generazioni all'interno della gestione di un albergo deve passare attraverso la formazione professionale delle nuove leve ovviamente quando se c'è intenzione da parte delle nuove leve di proseguire il lavoro delle generazioni precedenti che siano zii o zii o nonni e se hanno un'attitudine tanto è vero se hanno un'attitudine quindi ovviamente le catene gli hotel di catena restano sono le strutture familiari che hanno bisogno di una successione e di un passaggio generazionale perché ne va dell'esistenza stessa dell'asset albergo familiare sul mercato e se non gestito nel mentre la coesistenza tra le generazioni e non gestito il passaggio generazionale quando la generazione uscente decida di farlo l'esistenza e la continuità della continuità della gestione è messa a grave rischio voglio però sottolineare poi un altro un altro aspetto quando parliamo poi di delle nuove generazioni il lavoro nell'impresa familiare non deve essere un diritto nel senso che è opportuno comunque che le nuove le leve facciano il proprio percorso vengono preparate tramite e formate attraverso un appropriato processo di training senza il quale appunto poi c'è il rischio diversamente che si possa trovare una risorsa per quanto familiare che comunque non è valida per la gestione e per le responsabilità che probabilmente in un futuro in quanto componente familiare dovrà assumersi è importantissimo avere questa panoramica e contemporaneamente capire che ci sono delle azioni tipo una delle principali che sono gli investimenti che vanno analizzate bene perché quando parlo con l'albergatore lui vede spesso soltanto un investimento dal punto di vista di struttura cioè dice ok dobbiamo ristrutturare le stanze dobbiamo cambiare queste cose ma è molto legato alle cose materiali e appunto per quello si fa un po' più fatica a dirgli guarda che la tua impresa comprende tutti questi settori questi ambiti e per affrontare il nuovo mercato bisogna innovare e per innovare bisogna fare questo 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 e lì lui dice ah ma sì ma quanti soldi vanno via o quanti soldi devo buttare spesso spesso sento questa frase tu dici ok fermiamoci cioè qual è l'alimentare di investimento infatti quello che la prossima la prossima cosa che volevo chiedere come facciamo a portare prima questo messaggio poi a dirgli all'imprenditore questi sono le linee di investimento più atte a iniziare poi dopo loro vedendo sicuramente il primo primo risultato avviene la fiducia per poi dopo cominciare a a prendere la linea diciamo così la giusta linea perché te lo giuro che vedo questa problematica è spessissimo tutti i soldi buttati prima di tutto mi metto io il problema su di me come mai non riesco a farle arrivare questo messaggio e dopo qual è la linea di investimento più atta per far sì che loro inizino questa trasformazione condivido è difficile è difficile perché gran parte la maggior parte dei degli alberghi hanno avuto successo nei decenni passati e quindi si pensa che può continuare così ma come abbiamo detto in precedenza il successo che gli alberghi hanno avuto negli anni 70 80 era un successo che non era legato al modo in cui gli alberghi gestivano le famiglie gestivano gli alberghi era un successo legato a condizioni storiche economiche per cui gli albergatori facevano ricavi senza grossi sforzi e non è possibile oggi considerare i ricavi senza degli investimenti il problema è che spesso lo switch che l'imprenditore deve fare non è è legato alla terminologia a volte spesso anche tra costo e investimento spesso ti dicono quanto mi costa quanto quanto costa quello quanto costa quell'altro e non non penso invece quanto sto investendo perché soprattutto per quel che riguarda asset intangibili quale può essere appunto per esempio la formazione o le competenze del 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 proprio staff non ne vedono un ritorno un ritorno immediato se se un albergatore investe in quel caso pensa di investire su altre dieci camere incrementa lo slot delle camere di altri dieci quelle dieci automaticamente portano comunque o dovrebbero portare una redditività maggiore semplicemente perché abbiamo aumentato il numero il numero di camere è più facile un discorso di questo tipo per l'imprenditore o meglio per l'imprenditore di un certo tipo perché è più lineare difficile invece fargli passare il messaggio per il quale un collaboratore formato che abbia delle competenze per esempio la reception possa essere diverso rispetto ad una qualsiasi persona che sia lì a dare chiavi a dare due istruzioni perché ormai in tutti gli ambiti in tutti i settori ma anche aziendale in senso lato le risorse hanno un valore eccezionale soprattutto quelle che poi si trovano ad avere una relazione con la clientela per cui oggi un receptionist ha di avere delle competenze partendo da quelle linguistiche che sono un gap storico del mondo dell'ospitalità italiana ma anche tutta una serie di competenze di tipo relazionale di gestione della clientela di vendita per cui è difficile fargli passare questo concetto ma l'investimento su quali dovrebbero essere parametrate diciamo facendo un elenco molto veloce anche perché riprendono degli aspetti che abbiamo già affrontato perché sono quelle aree di miglioramento su cui abbiamo già discusso e che probabilmente sono spesso anche non possono essere difficili ma forse sono più complesse che complicate e che se si pensa di non essere in grado si può poi far riferimento facilmente a quello che possono essere dei soggetti professionali esterni quindi partirei dalla mia vissazione lo so di averla ripetuto più volte ma è quella dell'organizzazione e quindi investire sull'organizzazione significa però fare una verifica su quello che sono i componenti della famiglia e sui collaboratori andando a verificare quelle che sono le peculiarità personali di ciascuno le competenze presenti al momento le attitudini perché no anche le aspirazioni definire quindi poi un organigramma secondo ruoli funzioni e responsabilità che devono essere accompagnate sostenute dalle competenze e poi l'aggiornamento la formazione che deve avvenire sia sui membri della famiglia sia sui collaboratori e ritorniamo a quello che ci siamo detti prima quindi come un asset intangibile che è difficile far passare all'imprenditore come un vero investimento così anche il recruiting professionale che accerta poi la possibilità o meglio garantisce il più possibile che un soggetto abbia delle competenze delle qualità che siano idonee a quello che l'attività potrebbe svolgere per ultimo ma per nulla per ultimo dato quanto ci siamo detti fino ad oggi il marketing purtroppo il marketing viene visto come la ruota di scotta per cui spesso serve più a soddisfare la vanità dell'imprenditore perché vuole vedere un post sui social e viene gratificato dal fatto che una determinata cosa viene vista sui social piuttosto che parlare di marketing in senso di identità di brand di posizionamento di posizionamento e quindi solamente poi dopo arrivare a quello che può essere pubblicità in senso stretto che possono essere le ads su google su facebook e la comunicazione in senso lato quindi credo che questi siano aspetti che per lo più sono intangibili e che sono veramente veramente difficili da far passare all'imprenditore come investimenti che possono avere invece un ritorno nel medio lungo termine sì lo noto proprio per quello che dicevi te sono passati 40 anni dove si andava in automatismi importanti di aprirlo le porte le pronotazioni arrivano poi negli anni più o meno tra il 2004 e il 2008 sono iniziati a comparire tutti i portali questo ha slegato tutto quello che è l'organigramma e il marketing e tutto cioè ci si è affidati ai portali ce l'hanno visto come se fosse una porta aperta al mondo oltre che magari intermediazione attraverso tour operator che tra tutte forse è la migliore adesso siamo in un punto piatto dobbiamo ricominciare dall'ABC e il marketing e una consapevolezza che l'imprenditore credo sono certa dovrebbe avere proprio chi vuole fare impresa principalmente nel settore dell'hotelleria per avere un controllo della situazione se no mi sembra per quello che stai dicendo che senza queste bassi si perde non soltanto un fatturato o altro si perde proprio il controllo della situazione il controllo della propria azienda senza queste consapevolezze che vedendo paradossalmente abbiamo degli esempi eclatanti che si trovano nei libri in contenuti gratuiti dappertutto quindi tutti esempi di gestione di catene spesso quando si parla di imprenditoria si fanno esempi enormi di come Amazon è nata e cresciuta di come Tesla ha fatto cose così ma lì ci sono proprio dei sistemi e io mi chiedevo come mai nel settore dell'hotelleria non si riescono ad apprendere sistemi e portarli alle single properties piano piano oppure tira fuori una sorta di guida che è quello che stiamo facendo oggi attraverso HSL anche quindi l'ultima delle domande che ti faccio è quali sono gli aspetti delle aziende strutturate che possono essere implementate nelle single properties allora io credo io credo che le strutture alberghiere a gestione familiare oggi hanno una grandissima occasione in generale nei periodi di crisi qual è quello che stiamo stiamo vivendo è il momento in cui di mettere in discussione le proprie certezze e quindi anche il momento in cui magari la mente è più aperta nel accettare o prendere in considerazione aspetti nuovi informazioni diverse questo oggi c'è una grande occasione perché proprio per come dicevi tu oggi c'è una possibilità di informazione che ha l'imprenditore rispetto a 10-20 anche solo 10 anni fa ma anche soprattutto 20 anni fa per non parlare ancora oltre di quelli che possono essere aspetti che possono essere di tipo aziendale ma anche multinazionale facevi riferimento ad Amazon ma che possono poi essere in qualche modo comunque adattate e declinate su quelle che sono le esigenze che una struttura organizzativa di medio piccola dimensione può ha per lo più come nella struttura nel tessuto alberghiero italiano quindi è un'occasione quindi prendere dai grandi prendere dalle informazioni per poi inserirle nel proprio contesto anzi aggiungendogli un valore che è quello familiare di cui abbiamo lungamente parlato che invece le grandi aziende non hanno quindi diciamo io credo che gli aspetti fondamentali siano legati ad una chiarezza da prendere appunto da eventualmente da aziende più strutturate sono una chiarezza di vision e di mission che spesso sono anche queste inflazionate dal punto di vista didattico ma che hanno effettivamente un valore notevole perché spesso non sono chiare né all'imprenditore né al cliente che si sta informando né ai collaboratori o alla famiglia in generale quindi una chiarezza di vision legata al fatto che ovviamente l'obiettivo finale per qualsiasi tipo di albergo è quello di ospitare nel miglior modo possibile i propri ospiti ma deve essere qualcosa di diverso l'ospitalità ormai è qualcosa di diverso dall'accogliere semplicemente l'ospite vuole una caratterizzazione una particolarità una peculiarità che è ricercata dallo stesso ospite e che quindi deve essere espresso attraverso una vision quindi come poi andare a esprimere questo necessita di un focus di una focalizzazione di un coraggio che l'imprenditore e l'albergatore deve prendere a due mani per individuare come abbiamo già in parte detto in precedenza un target specifico perché anche in questo caso prende da prendere esempio le hotel di catena come come gli hotel di catena fanno riferimento a più target a più esigenze a più bisogni andando ad avere brand a loro volta diversi per cui hanno un brand per le coppie per le coppie un brand magari per le famiglie un brand per i clienti business quindi ovviamente un imprenditore di un albergo o un albergatore con una struttura media non ha la possibilità di poter avere diversi alberghi che rispondano a diverse esigenze ma deve avere il coraggio invece di rispondere ad un'unica esigenza ad una ad una nicchia che in cui deve diventare il primo il primo è il punto di riferimento di quella di quella nicchia parlando poi di aspetti organizzativi anche qui capire quali sono delle impostazioni organizzative le procedure che hanno avuto successo all'interno degli alberghi di catena e replicarle per quanto possibile adattandole a quelle che sono le dimensioni la clientela e il servizio che viene o anche le risorse economiche che vengono che sono proprie dell'albergatore e poi c'è un aspetto credo fondamentale con il quale concludo la risposta a questa domanda che è quella legata alla condivisione di tutti questi punti con lo staff spesso l'albergatore può avere anche nella sua idea il posizionamento in qualche caso può anche averla correttamente comunicata e gestita tramite il marketing strategico ma è necessario che tutto che tutto quanto che parte dalla vision dalla mission dal target su cui si è focalizzati dall'impostazione organizzativa e dai processi organizzativi vengano condivisi con lo staff lo staff deve essere a conoscenza di tutto questo perché aiuta lo staff a darsi delle risposte e poi ad agire nel modo migliore possibile e questo fa sì che l'albergo poi abbia dei processi organizzativi e di servizio più efficienti possibili mi rendo conto poi che mi rendo conto che tutte le attività di cui abbiamo parlato tutte le aree di miglioramento che possono essere colmate perché sono delle lacune sono il risultato di processi che spesso sono lunghi e anche faticosi che possono portare all'albergatore un iniziale scoramento per l'incapacità eventualmente di intervenire e l'incapacità di dare anche delle priorità di intervento ma sono convinto che saranno i risultati poi a ripagarlo e a scoprire appunto dal ritorno che ha a modo lungo termine quali sono gli investimenti non i costi che sta affrontando ed eventualmente poi se non pensa di esserne in grado può anche facilmente farsi assistere da consulente esterno e professionale Sì ma infatti ho notato proprio nel trascorrere di questi ultimi periodi come si possono agevolare tempi e di conseguenza fatturato perché qui siamo alla rincorsa con i tempi adesso sono cambiate anche tutte le modalità di gestione delle utenze quindi proprio il day by day all'interno delle strutture quanto l'intervento esterno di un analista o comunque di un impostatore di processi di un consulente fino ad arrivare a un management esterno può totalmente rivoluzionare le dinamiche interne e quindi non solo rilanciare la struttura o fare una sorta di rebranding o quel che sia però proprio di portarla al successo perché se non lo sta facendo nessuno o se lo stanno facendo in pochi la qualcuno se ne renda conto che è il momento giusto e comincia ad applicare subito tutte queste tecniche che sono già collaudate il successo arriverà per prima dicono sempre che chi ha il vantaggio insomma di arrivare per prima ha il mercato un pochino più in mano quindi si si finisci finisci scusami e appunto per quello noi siamo qua a dare tutte queste diciamo spunti queste pillole di consapevolezza perché lo possono fare già da soli cosa succede che i tempi sono totalmente diversi o cosa cosa ne pensi poi le competenze anche perché puoi apprendere la differenza o tempo o denaro quindi allora i tempi i tempi sono sicuramente diversi derivano dal fatto che quando ci si affida a qualcuno bisogna sapere che quel qualcuno ha già affrontato tante di quelle situazioni che come ci siamo detti anche nella chiacchierata tra di noi si trovano frequentemente se non sempre all'interno delle 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 strutture a gestione familiare per cui sono delle problematiche che spesso sono già state gestite e di cui si conoscono quindi i segreti e le difficoltà e che quindi devono essere semplicemente adattati alla peculiarità dell'albergo che si prende in considerazione ma rappresentano un booster a quello che sono le volontà di un imprenditore che possono essere anche correttamente impostate ma che possono essere appunto agevolate favorite da qualcuno che invece ha visto tanti esempi e ha trovato tante soluzioni diverse sì infatti era appunto quello porto all'attenzione l'ultimo analisi e l'implementazione di sistemi innovativi per le single properties che è uno dei vari processi che seguiamo con HSL per il settore dell'hotelleria e dell'ospitalità in Italia e non solo anche all'estero quindi di poter fare un'analisi di quelle sono le linee di investimento giuste per iniziare con questa trasformazione e portare alla conoscenza di tutti gli imprenditori di single properties che una soluzione c'è ed è già collaudata con i minimi rischi con un metodo appunto di approcessato in altre strutture che sta funzionando che è funzionante che è funzionale che è efficace e che è giusto che sia preso in considerazione se si vuole continuare nel mercato ad avere controllo della propria attività cosa ne pensi? sì quello che ci siamo detti nel senso che ovviamente la 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 un operatore professionale quale HSL si trova tutti i giorni a gestire situazioni che possono andare dal real estate al e quindi a situazioni di compra e vendita eventualmente di alberghi ma parlando a albergatori speriamo che non debbano vendere l'albergo ma nel caso in cui dovessero mai arrivarci HSL può fare anche quello per cui passare invece a dei servizi di carattere manageriale gestionale imprenditoriale in senso lato per cui con grandissima disponibilità e grandissima professionalità benissimo sono troppo felice perché adesso cominciamo a a portare un pochino più di consapevolezza in questa soluzione per trasformare totalmente il la propria impresa e ci siamo ci siamo siamo arrivati Daniele mi hai regalato un momento di consapevolezza di concretezza in tutte quelle che sono le dinamiche delle single properties grazie mille grazie a te ci vediamo prestissimo nel campo certo a presto di fare queste cose felice giornata e ci vediamo ciao